Paolo Lanzavecchia, sindaco di Canelli, il lasti spumante, qui per aspettare questo treno storico che parla di vino e di buona tavola, qui con in mano un calice di Canelli di OCG. Canelli di OCG, la nuova di OCG, il nostro Moscato, il Canelli. Una nuova di OCG, un prodotto che nasce col primo spumante italiano, come ricordiamo sempre, nel 1865, dal Moscato è nato tutto su questo territorio, Moscato, Bolle e tutti anche i nostri buonissimi vini rossi del territorio. Senta però, qui si parla di enoturismo, di treno, un modo nuovo di intendere il turismo, sarà il futuro questo? È il futuro, il futuro ci crediamo, già iniziative partite negli anni precedenti, durante la pandemia certamente non ha aiutato, fine dello stato di emergenza, riprende un progetto interessante, treno a vapore, turismo sostenibile, si parla di sostenibilità, del cibo, del bere del buon vino, ma anche del turismo ovviamente. Grazie.